ciao 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 mi dicono che stanno cercando dei candidati ecco io mi candido come sono di chi analisa dicono che siamo identici uguali 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 penalisa cosa siete razzisti no 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 vuoi candidarti è ripreso allora il microfono allora il tuo nome candido come sosia di e di analisa e poi fai un pezzettino di analisa vai ciao mi chiamo fine e mi candido come sosia di analisa vai per un pezzo magari lo so vai bellissima bellissima fai bellissima ok si doveva quella volta non dovevi andare via ero bellissima bellissima grazie eh grazie tanto sto qua lo teniamo piaccicata proprio uguale io non ci abbia confuso uguale uguale ho avuto un attimo di allora analisa ti facciamo vedere un po' di sosia e tu dai i voti no a bene bene allora questo è il primo ciao ragazzi tutto vuoi essere forte come va quando saluto saluto gli amici di autogol siete forti ragazzi mi sembra più uno sforzo suo pesce in effetti è vero eh va bene gli diamo un sei 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 allora poi c'è questo vabbè lo facciamo vedere si abbiamo fatto vedere perché lui insisteva tanto ha insistito tanto ci teneva già parte bene dice che tu sosia però dove va scusa ha fatto bene insistere io per me no è impressionante ragazzi gli stessi occhi ma guarda una roba incredibile non mi è mai successo mi sembra di guardarmi allo specchio ma scusami no scusate cioè vi prego guardate cioè uguale voglio conoscerlo stai scherzando no 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 voglio conoscere lui me lo portate certo se si se vuoi tu analisa noi ci mancherebbe ragazzi per me ci sta prendendo in giro eh dai io l'ho vista convinto sai era convinta che cosa ma come fanno a somigliarsi andiamo a prenderlo e vediamo io la prenderlo vabbè ce l'ho posto ci fai una foto? certo certo Annalisa dai che bello abbiamo beccato Annalisa che fortuna comunque non so Annalisa eh ma davvero sei uguale eh è vero? è ugualissima grazie va che non sono Annalisa eh grazie male ma grazie grazie mille io non sono Annalisa eh intanto il nostro amico si fa le foto come Annalisa quindi no va bene non ci posso credere sei tu che emozione io sono scioccata siamo identici Sì, guarda, ma lo dicono tutti, non riesco neanche ad andare più in giro, guarda, è incredibile. Ma è assurdo, ma pure la voce. No, è troppo, questo troppo non ce la faccio, non reggo questa emozione. Eh, eh. Cioè, no, è una cosa pazzesca. Ma scambiamoci i contatti. Sì, certo. Volete una foto prima? Scambiamoci i contatti? Ah, giusto, facciamo una foto. Per i compleanni, così. Eh, sì. Per la foto, per la foto. Dai, facciamo una foto. Sosia. Sosia ufficiale. Ecco qua. Sei sicura, quindi? Io sono sicurissima, tra l'altro, ricordiamoci, scambiamoci i contatti, perché io devo fare un film d'azione. Attenzione. E potrebbe servirmi una controfigura, tu sei, cioè, perfetto. Ce la posso fare, ce la possiamo fare. Ma sì, sicuramente. Possiamo anche cantare insieme, secondo me, abbiamo la voce uguale. E come no? Eh, dove volete cantare? Bellissimo. Bellissimo. Beh, beh. Come noi due, come noi due. Come noi due, pazzeschi, pazzeschi. Fate, vi lasciamo passare, fate, fate, fate. Se volete cantare? Dove vai? Quella volta non dovevi andare via. Ero bellissima, bellissima. Muah!